è individuale, alla cova delle sardine, le ha messe insieme, non danno nessuna risposta perché sono tutte dentro il loro quadro, quando gli riferimenti è quello, quindi inevitabilmente non vanno da nessuna parte, è lo stesso problema i 5 stelle, è inutile che di mai continui con l'Italia dei parlamentari, quello lì non produce più niente, dedica dei rischi e quindi è un lavoro culturale che dobbiamo fare, un lavoro politico per poi mettersi le condizioni di fare un lavoro sociale, che è il nostro obiettivo. Speriamo sempre vero quel titolo che mi ricordo, il capitalismo ai secoli puntati, era del socialismo. Mi dispiace, voglio una domanda. Arrivederci. Allora, c'è una cassa, c'è una cassa, c'è una cassa, c'è una cassa, c'è una cassa. No, faccio un'offerta, c'è una cassa, c'è una cassa, c'è una cassa, c'è un'offerta per la sala, per il busto della sala, io non c'ho un euro, un euro, un bicchiere, non ti faccio vedere così, perché... Sarà a viventi, è un po' di direzze. Ah, sì, è un po' di direzze. Vabbè, ci sentiremo. Ci sentiamo. Ciao. Grazie. Ciao. 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 Grazie, grazie. Il corologio mi piace. Però ecco, adesso che... Spendi per pagare. Ciao. Ciao.